C'è di giallo nella vostra vita e quanto c'è di noir nella vostra vita milanese scopritelo con noi a risolto giallo Buonasera e bentornati a risolto giallo da Alessia Sorgato e dalla sua ospite perché Mazzavillani ahimè oggi gira altrove buonasera Laura Marinaro benvenuta Buonasera Alessia Sorgato buonasera a tutti quanti Questa sarà una puntata molto signorile molto femminile perché noi siamo due vecchie amiche ma sarà anche una puntata molto crime perché la Marinaro qui oggi in veste di scrittrice in realtà ha un vissuto che parte da molto lontano e cominciamo da lì Marinaro si presenti Allora non dico quanti anni ho si lo dico 55 li ho appena compiuti poi lo sanno tutti e scrivo da quando praticamente sono nata cioè da quando avevo tre anni quattro anni ho imparato da sola cosa hai scritto come prime cose ah vabbè lettere poesie sì sì poesie ho ancora delle poesie le tenute alcune sono anche carine non sono brutte io ho anche ho tentato di reeditarle ma poi dopo mi vergogno un po' perché in questa veste nera diciamo che le poesie non è che ci stanno moltissimo e poi lettere scrivevo tante lettere anche agli amici agli amiche ai fidanzati agli ex fidanzati su carta perché all'epoca non avevamo altre no veramente le scrivo ancora anche su carta ai miei genitori insomma ma ti ricordi che ci regalavano la carta da lettere con la busta coordinata? eh sì l'ultima che ho avuto che praticamente ho finito di consumare ultimamente è la Fabriano proprio da Fabriano che meraviglia e se le accerchi adesso in cartoleria fai fatica un po' come il diario con Lucchetto eh sì ok quindi parti da lì e dove approdi? eh parto che già 8-9 anni volevo fare la giornalista e volevo partire per Milano anzi anche l'inviata di guerra avrei fatto e vabbè poi mi sono trovata a fare la cronista perché vabbè dopo la laurea sono andata a lavorare prima alla notte l'ultimo giornale del pomeriggio d'Italia e quindi lì ho iniziato ad appassionarmi alla cronaca nera e giudiziaria e poi dalla notte ho fatto un po' di giri anche in provincia poi ho fatto anche la giornalista di viaggi per un po' di anni e poi sono tornata alla cronaca nera adesso da 13 anni collaboro con giallo ma tutti i mesi poi ho una trasmissione su Radio Libertà Giallo Radio Club che ho scritto io e proprio stamattina abbiamo fatto senti Laura per il nostro pubblico più giovane che è sempre affascinato da carriere come la tua e che non tanto in un tentativo di emulazione ma proprio per prepararsi seriamente che cosa hai studiato? Eh sì bisogna studiare tanto vabbè io ho studiato il liceo classico poi lettere con indirizzo in comunicazioni sociali perché ai tempi c'era quello in cattolica poi dopo attenzione ragazzi lettere moderne sì lettere moderne quindi posso anche insegnare cioè quindi io consiglio a chi vuole fare questo mestiere soprattutto di cambiare idea però poi dopo cioè di non pensare di guadagnare di farlo per i soldi assolutamente questo è un mestiere che si fa per passione di fatto perché arrivare poi a guadagnare così cioè ce ne vuole bisogna diventare scrittore ma insomma anche lei bisogna diventare scrittore in America dove si legge non in Italia perché si legge poco però insomma vabbè studiare quindi vabbè se uno sa già forse tornando indietro magari avrei fatto anche giurisprudenza però non lo so perché no a me è sempre piaciute comunque le lettere poi comunque lettere e filosofia sono facoltà che servono a tantissimo anche dopo se come me fai un master in scienze forensi e sopralluogo sulla scena del crimine questo l'ho fatto a 50 anni ragazzi sentite che cosa ci dice Laura mai smettere di studiare poi vabbè io tanti anni ho fatto la cronaca giudiziaria quindi è come se avessi preso una mini 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 laurea in diritto penale perché frequentando tanto i processi ma anche poi le procure i carabinieri la polizia insomma impari tante cose ti metti a studiare poi ho voluto fare questo master con la scuola di Roberta Bruzzone e mi è servito tantissimo tantissimo ancora di più a leggere le carte a capire e poi anche a scrivere finalmente il mio primo romanzo adesso ci arriviamo perché è molto carino però perdonami tu sei un personaggio così interessante anche prima di diventare una romanziera che io un'altra domanda te la devo fare va bene perché è una delle curiosità che l'uomo della strada avverte in maniera secondo me sempre più coccente ed è proprio il rapporto tra la stampa l'informazione e il mondo investigativo e giudiziario la mia prima domanda è come tu lo lo vivi questo rapporto e la seconda ancora più interessante dal mio punto di vista è se è cambiato in questi anni allora è un po cambiato perché è cambiato anche questo mestiere cioè con internet i social è cambiato tantissimo questo mestiere però questa parte del mestiere cioè la nera e la giudiziare alla fine non sono cambiate tanto perché le informazioni ovviamente tu le devi sempre prendere da le fonti accreditate o dai testimoni vagliandole poi con le fonti accreditate quindi tutto si basa moltissimo anche sulla competenza ma anche sulle conoscenze ovvio che è un po cambiato nel senso che una volta era un po più facile cioè una volta io ricordo quando facevo la cronista proprio ma adesso lavorando per un settimanale ho un modo più di approfondire invece una volta viaggiavo sulla velocità e a quel punto io vivevo nella caserma e lì aspettavo la gente che andava a fare le denunce cioè tante volte prendevo le notizie da quello ovvio che avevo chi mi confermava perché quello è importante magari le forze dell'ordine non possono ovviamente raccontarti chissà che però ti confermano cioè se tu chiami e dici ho saputo questa cosa me la confermi me la smentisci ti fanno capire in qualche modo se te la confermano o te la smentiscono per quanto riguarda le carte giudiziarie che è la cosa più interessante da recuperare possibilmente prima del processo quindi prima dell'indagine preliminare è vero che non si potrebbe teoricamente per legge però in realtà ce la facciamo perché sono tanti le parti in un processo e non sono solamente le procure ecco quindi quando si parla di fuga di notizie non dobbiamo additare solo il cancelliere no 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 non è più così non è più così no e quindi tu dici poi poi parliamo di romanzo quindi tu non trovi questa gran differenza ma allora approccio forse perché adesso l'angolo visuale che hai è un angolo più più meditato più approfondito non hai questo taccuino con cui correre dietro ecco no cioè non corro più così ma anche se io faccio comunque sono ancora coordinatore di un giornale online che è il cittadino di Lecco quindi comunque però vabbè ho i collaboratori diciamo e tante volte vado ancora anch'io sui posti come va la cronaca nera con la provincia? ecco la cronaca nera ecco a Lecco è un po' un problema perché non succede niente? no no succede ci sono tanti incidenti stradali infortuni sul lavoro ahia ecco e quelli sono dei temi ogni tanto c'è qualche notizia tipo oggi arresti per droga quelle cose che insomma diciamo che dopo la strage di Erba no vabbè gli omicidi quello lì pochissimo abbiamo avuto no vabbè dopo la strage di Erba c'è stata quella lì di quella mamma albanese cos'era che aveva ucciso le bambine ti ricordi all'ecco quella di quel papà che aveva portato i figli in montagna e poi li aveva uccisi e si era ucciso beh insomma ne succedono anche le Erba no io te lo chiedo per interesse personale perché io ci passo il weekend da quelle parti io abito sì abito a Merate giusto per capire che posso andare in giro tranquillo in generale la provincia italiana è sicuramente stata il teatro dei peggiori ed efferrati delitti della nostra storia sì anche Milano ovvio Roma però la provincia ha dato tanto in questi anni però la provincia di Lecco è una delle più tranquille per ora fateci caso cari risoltisti rivedete un po' la moviola dei grandi casi che hanno appassionato l'ultimo decennio italiano Perugia anche voglio dire Perugia cittadina piccina Sarascazzi A Vetrana che neanche sapevamo dove fosse no vabbè io sì perché sono pugliese e tra questi luoghi provinciali amenici vogliamo mettere Varigotti ecco dove peraltro si racconta che ci sia stato un delitto misterioso legato ad un sindaco quindi cioè una storia c'era stata però qui parliamo di Varigotti luogo fantastico delizioso per chi non lo conoscesse approfittate di questi ultimi lembi di bel tempo per andarvi a vedere questo borgo di pescatori spettacolare in provincia di Savona Savona e speriamo che voi non incontriate un maremoto perché io da lauro ho scoperto che il maremoto a Varigotti c'è stato realmente parliamo di lui è vero nell'allerta maremoto fu data proprio una notte di gennaio del 71 su tutta la costa del ponente Ligure e poi ci fu questa onda anomala però vabbè niente di speciale eri già lì a tre anni ero ancora in Puglia però vabbè è stato lo spunto poi per decidere di far succedere qualcosa e alla fine il maremoto se lo leggerete insomma capirete che sarà un maremoto anche di un altro tipo ecco non solo come nasce l'idea del romanzo? a parte il fatto che probabilmente era dentro di te da tanti anni da tanto perché ho sempre letto romanzi gialli da quando avevo dieci anni e sono sempre stata appassionata di gialli anche true crime però vabbè anche proprio romanzi anche tu sei partita da Nancy Drew e il giallo mondadori per ragazzi sì 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 gialli mondadori tutti poi anche per grandi perché poi vabbè ho iniziato subito con con Andoile e Agatha Christie eccetera e compagnie Simenon insomma questo tutto da ragazza c'è tutto questo questo fermento che si agitava però c'è un momento in cui dici ma perché non lo scrivo anch'io? si fa certo diciamo che quello che mi ha fermato più di tutto è stato proprio il fatto che io faccio questo di mestiere perché vedo che hanno molto successo hanno spesso più successo quelli che fanno un altro mestiere che si mettono a scrivere anche casaling cioè quelli che fanno tutt'altro e io ho detto se io che faccio questo mestiere vado a proporre un giallo mi dicono e vabbè che ci vuoi cioè fai quello di lavoro io ho detto no ci provo e ci ho provato e poi in effetti poi grazie a devo ringraziarlo ovviamente Fabrizio Carcano che mi conosceva e quando ho sentito che io avevo questa idea ho detto ma davvero? no ma vieni con noi e il direttore di Giungla Gialla appunto e poi è arrivata Alessia anche che Alessia è stata proprio la prima persona che ha letto la prima versione e ha fatto il primo editing il nostro Fabrizio che avremo a breve perché tornerà qui non con il nuovo libro ma con due nuovi libri perché Carcano sta riuscendo l'altro non so probabilmente non dorme oppure c'ha un avatar che fa altre cose per lui Fabrizio mi disse guarda dacci una letta perché per me è un'amica quindi rischio magari di non essere obiettivo si sa che è una penna allenata è una penna allenata anche a questo genere di però è una giornalista e voi sapete che i canoni di scrittura del giornalista sono ben diversi rispetto alla scrittura ciò posto veniamo a lui che cosa ne possiamo dire? c'è qualcosa che possiamo raccontare senza spoilerare di questo ragazzo? è certo è certo allora possiamo dire che quindi in quella notte di allerta maremoto succede qualcosa questo qualcosa che succede è un cold case perché in realtà poi dopo il romanzo parte nel 2021 con la protagonista che è questa Alina Ferrari che è una colonnella dei carabinieri e che partirà da Milano perché sarà un po' stressata non riesce a risolvere due delitti a Milano per andare a Savona a fare insomma un periodo ad interim si dice comandante provinciale quindi un incarico abbastanza tranquillo di rappresentanza più che operativo perché lei lei era molto operativa a Milano e ricorda di aver avuto questa villa con i genitori a Varigotti quando era bambina e quindi da investigatrice vuole riprendere in mano quel cold case perché voi sapete anche che nel presente cioè succede questo tanti casi vecchi vengono riaperti e magari alla luce delle nuove tecniche investigative soprattutto delle scienze forensi che hanno fatto dei passi da gigante si può sperare di cavarne qualcosa qualche volta succede qualche volta purtroppo non c'è molta possibilità perché magari i reperti sono degradati oppure addirittura anche i cadaveri sono non hanno più queste le tracce però insomma si può insomma si può lo farà non lo farà quindi sono due storie parallele sono due storie parallele quindi quella di adesso il presente si interseca con il passato e quindi le indagini come si fanno nel presente si intersecano alle indagini come si facevano nel passato ma questo è bellissimo e quindi ed è lì che sono andata un po' a vedere insomma cosa succedeva quando non c'erano le telecamere di videosorveglianza non c'erano le celle telefoniche non c'erano i telepass non c'erano il dna non c'erano tante cose cioè sì c'erano le impronte digitali iniziavano i calchi delle dei pneumatici ma non c'era moltissimo c'erano i testimoni c'erano tanti testimoni e infatti in questo in quella parte del romanzo che poi è quella che racconta vari gotti e i vari gottini l'hanno veramente apprezzato e hanno detto che sembrava quasi che fossi di là invece in realtà io da solo da sei anni che vado là ecco quella che racconta quella parte che racconta vari gotti ha tanti personaggi che sono quasi tutti sospettati e qui c'è un po' insomma una gata cristica ma sono personaggi che tu conosci veramente che incontri le tue vacanze vari gotti c'è qualcuno che ti ha ispirato beh sì questo sì no allora non ci sono nel senso che quelli del romanzo non ci sono però ci sono nel senso che si chiamano in un'altra maniera però magari fanno la stessa cosa eh non lo so il maresciallo dei carabinieri che tra l'altro insomma ho anche conosciuto quello vero ho apprezzato il libro l'ha letto il pescivendola la pescivendola e tutta la sua storia che l'ho inventato assolutamente però l'è piaciuta l'è piaciuto come l'ho inventato perché l'ho proprio inventato ma glielo ho detto ho detto guarda che racconterò una storia ma non sei tu però tu vendi il pesce il giornalista vabbè è un cronista di nera di quei tempi il fumettista esiste veramente che ha fatto questo fumetto paperino e la notte del saraceno che voi trovate a Varigotti e tra l'altro fu editato in latino è l'unico fumetto della Disney in latino e io ne parlo nel romanzo però insomma non possiamo dire molto altro cioè è abbastanza complicata la storia mi dicono tutti insomma che fino alla fine fino all'ultima pagina non si riesce a capire ve lo confermo ve lo confermo personalmente io non ce l'ho capito niente e voi sapete che invece in altri casi con l'autore qui ho la pagina in cui capisco detto questo e in chiusura sbaglio e se sbaglio dillo sbaglio o questo libro è anche oltre che un colchese è un caso recente è anche la Laura di vent'anni fa e la Laura di adesso perché insomma c'è le tecniche investigative di allora il giornalista investigativo di allora e poi c'è tutto quello che accade adesso c'è un po' di un po' di ritorno anche al tuo passato professionale ma anche personale beh ma questo è bellissimo beh un po' sì 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 e anche Alina ha tanto di me anche se vabbè insomma è diversa da me per certi versi è come io avrei voluto essere perché avrei voluto essere alta figa beh perché questa è alta magra è figa la veste bene pantaloncino a zappa vabbè quello sì perché io sono una bilancia sono fissata però lei è bella sono alta e forse io avrei voluto essere un carabiniere sì 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 incontreremo in un'altra vita in un'altra vita farò il carabiniere da giornalista è diventata scrittrice chissà mai prima di salutarci facciamo rivedere questa bellissima copertina con questo complimenti veramente alla copertina imprinting giungla gialla ormai possiamo andare anche a occhi semi chiusi dove sono nere e rosse le copertine sono di giungla gialla la domanda che di solito ti fa Mazzavillani è stai scrivendo? sì la vendetta e allora a presto qui grazie a tutti e buona serata buona serata quanto c'è di giallo nella vostra vita? e quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? scopritelo con noi ha risolto giallo grazie a tutti